Schio. I carabinieri hanno arrestato un 51enne scledense per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo aveva occupato abusivamente uno scantinato dopo aver sottratto le chiavi in maniera illecita all'ex convivente. La donna ha chiamato i carabinieri che con i vigili del fuoco hanno forzato la porta e sono entrati. Il 51enne, in evidente stato di ebrezza, ha minacciato e strattonato con violenze militari. Bloccato e condotto in caserma, è stato arrestato e trattenuto in camera di sicurezza.